Sono rientrati l'Asic e Diagite, quindi potremmo avere più scelte nella formazione iniziale. Poi per il resto non abbiamo avuto grandi problemi in quest'ultimo periodo, però sono contento che abbiamo recuperato questi due giocatori perché sono due giocatori importanti per noi. Ilari è convocato, si è fatto male ieri, ha preso una distorsione. Questa mattina si è allenato non con la squadra, ma si è allenato comunque ed è disponibile per domani. Sono due giorni che non si allena. Domani abbiamo una grande opportunità di raggiungere questo traguardo. Sarebbe una cosa meravigliosa, ma non perché questa squadra ha grande potenziale. Ultimamente abbiamo giocato con un po' di defezioni e abbiamo avuto qualche problema. Nell'ultimo periodo, oltre ad aver avuto qualche problema di formazione, che inevitabilmente ha pesato un po' secondo me sull'andamento della squadra, è stato anche un momento in cui le cose non sono girate bene. Alla minima occasione abbiamo preso gol e quindi si è spostato un po' l'equilibrio iniziale. Chiudere al terzo posto sarebbe meraviglioso, però c'è una difficoltà che si chiama bisceglie. Ci dà un giudizio su Massimo Paci? Io non lo so. Faccio fatica a giudicarmi. È presto, nel senso che cerco di fare il mio lavoro al meglio. Ho fatto tanti errori fino adesso, lo so, ma li accetto perché fanno parte anche del mio processo di crescita. Sto qui, è il mio primo anno di Lega Pro, devo migliorare tanto, lo so, nella gestione con i giocatori, nella mia metodologia, nella mia gestione dei mancati risultati, ma quello lo so. E poi detto questo non saprei dirti un altro giudizio su di me perché è un po' presto. Si vede alla fine quello che... Cioè, i cavalli, insomma, si vedono alla fine. Io non guardo giovani e meno giovani. Chi ha fame, chi si mangia l'erba in allenamento e lo vedo pronto, con me ha tutte le opportunità e le possibilità di giocare. A volte i ragazzi di oggi non hanno pazienza. A volte i ragazzi di oggi questa generazione non ascolta. E questo è un problema perché i ragazzi di oggi dovrebbero essere molto più concentrati sul loro processo di crescita che sul gioco o non gioco. Cioè, sono contento se gioco allora mi alleno, se non gioco mi alleno male. Cioè, questo è un grande fallimento per un ragazzo giovane. Hanno poca pazienza. Però, ripeto, io per me, giovani e meno giovani, se sono forti, devono giocare. Faccio le scelte per la squadra. Il giovane ha molto più entusiasmo, molto più fuoco rispetto a un giocatore che già ha più esperienza. Però questo non significa niente. Abbiamo giocatori meno giovani da noi che hanno fame. Grazie a tutti.